193 tonnellate di alimenti donati dagli abruzzesi alla Banco Alimentare. Cosimo Trivisani, direttore del Banco Alimentare Abruzzo, soddisfatto della generosità degli abruzzesi? Soddisfatto è dire poco. Siamo pieni di gratitudine per tutte quelle famiglie, persone singole che hanno collaborato insieme a noi facendo la spesa. Siamo grati a tutti i nostri volontari, tenete conto che in Abruzzo ce ne avevamo circa 4.000 volontari che ci permettono di partecipare a un gesto così grande di solidarietà. Credo che in Italia sia il gesto più partecipato a livello di solidarietà. Noi siamo grati e invitiamo tutti domani sera una messa di ringraziamento. Faremo una messa di ringraziamento con Sua Eccellenza, Monsignor Valentinetti, alla parrocchia degli Angeli Custodi, proprio per esprimere questa gratitudine. Due tonnellate in più di alimenti raccolti rispetto allo scorso anno. Questo vuol dire che il Banco Alimentare è un'associazione riconosciuta. Penso che lavori con molta trasparenza e i risultati si vedono. Vuol dire che la generosità degli abruzzesi è evidente, che è palpabile e che noi la sperimentiamo tutti gli anni. Pur essendo la ventunesima edizione, credo che questa sia la testimonianza della stima che hanno per noi e della solidarietà che hanno verso i poveri che aiutiamo. Siamo qui nel deposito di Pescara, stiamo vedendo tanti volontari al lavoro. Questi alimenti a chi sono destinati? Dove andranno a finire? Gli alimenti andranno a finire attraverso le nostre 191 strutture caritative convenzionate in Abruzzo ai poveri di tutte e quattro le province abruzzese. E questo credo che bisogna ringraziare anche chi fa questo tipo di attività, cioè chi è direttamente a contatto con i poveri, che poi sono le caritas parrocchiali, le messe per i poveri, le case d'accoglienza. Credo che loro fanno un enorme lavoro e visto che siamo vicini al Natale, quest'anno saremo sicuramente molto ma molto più generosi anche nei confronti dei nostri fratelli poveri.